Ciao a tutti e bentornati nel mio canale! Come state? Spero stiate tutti benissimo e che passiate o abbiate già passato una splendida domenica. Nel video di oggi voglio parlarvi di va bene e vabbè e di come usarli nelle risposte affermative. Voglio spiegarvi questa differenza perché appunto c'è una differenza di significato se dite va bene oppure vabbè rispondendo ad una domanda. Vediamo degli esempi perché così capirete subito di cosa sto parlando. Allora, se un vostro amico vi chiede andiamo al cinema, avete due possibilità con va bene o vabbè. Giusto? Se voi rispondete va bene, significa che siete d'accordo e volete andare al cinema. Quindi la risposta sarà sì, va bene, andiamo al cinema. Se invece voi rispondete vabbè, non ha lo stesso significato di va bene. Quindi voi non state assecondando la richiesta del vostro amico, cioè non state rispondendo sì, va bene, sono d'accordo. Se alla domanda andiamo al cinema, voi rispondete vabbè, le possibilità sono due. O non vi interessa, quindi non siete interessati e rispondete solamente per cortesia, cioè per dire qualcosa, anche se in realtà non è molto per cortesia, perché vabbè dimostra un forte disinteresse. Oppure non avete voglia di scegliere qualcos'altro e quindi andate al cinema, anche se non siete del tutto convinti. Quindi se alla domanda andiamo al cinema, rispondete vabbè, questa risposta equivale all'inglese whatever, ok? Quindi non è la stessa cosa di va bene. Va bene significa sì, sono d'accordo, va bene per me andare al cinema. Quindi io voglio andare al cinema. Se invece dite vabbè o non vi interessa oppure lasciate scegliere al vostro amico, quindi voi non avete un'alternativa alla proposta di andare al cinema. Vabbè, ok, vabbè, che equivale all'inglese, yeah, whatever. Questa differenza è abbastanza evidente nell'italiano parlato, perciò dovete fare attenzione a come e quando usate vabbè, perché se voi volete dire sì, dovete usare va bene, va bene, va bene. Tutte le volte che voi volete rispondere sì ad una domanda, usate va bene, non vabbè, perché vabbè è una risposta molto approssimativa, non è una risposta del tutto affermativa. Quindi se voi rispondete vabbè, è come se diceste whatever. Allora, facciamo un altro esempio. Pensavo di cucinare le verdure per cena e quindi implico una proposta. Pensavo di cucinare le verdure per cena. Implicita è la domanda, che ne pensi? La risposta può essere sì, va bene, quindi sì, va bene, sono d'accordo, cucina le verdure per cena. Oppure no, non va bene, quindi non sono d'accordo, cucina qualcos'altro, ma non le verdure per cena. Oppure vabbè. Se io rispondo vabbè, non ho in realtà un'opinione, quindi fai le verdure come vuoi, puoi anche non farle. Non ho un'opinione. Rispondere vabbè equivale a rispondere cucina quello che vuoi, cucina quello che ti pare. Quindi, vi ripeto che se volete dire sì, dite va bene. Se volete rispondere whatever, rispondete vabbè. Ricordatevi questa differenza di significato perché è importante, ok? Soprattutto quando parlate e conversate. E' importante tenere a mente questa differenza perché ovviamente se sbagliate ad usare vabbè, chi vi ascolta potrebbe interpretare male la vostra risposta, quando in realtà voi volevate dire va bene. Allora, grazie mille per avermi ascoltato anche oggi, per aver guardato questo video. Grazie mille, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!